Questa ondata di Covid, assolutamente in attesa perché il racconto degli esperti disegnava scenari diversi, ci ha beccati nel bel mezzo della stagione estiva, con assembramenti, concerti e manifestazioni molto partecipate. Ebbene, un numero sempre più elevato di Calabresi ha contratto e sta contraendo il virus, smaltendolo in casa oppure comportandosi come nulla fosse, con il rischio concreto di moltiplicare il contagio. Questa maledetta ondata ha creato e sta creando non pochi problemi al nostro sistema sanitario. Gli ospedali lanciano chiari messaggi d'aiuto. Il problema è sempre lo stesso, non ci sono medici a sufficienza. Così capita che il commissario dell'ASP di Reggio Calabria indossi il camice per coprire il turno in pronto soccorso nell'ospedale di Polistena. E ancora succede che per mancanza di medici fino al 26 luglio l'ASP abbia deciso di chiudere i punti di pronto intervento a Scilla, Oppido Mamertina e Palmi e che il GOM, il grande ospedale metropolitano, così come già fatto dall'annunziata di Cosenza, vieti l'ingresso ai parenti per i troppi casi e il poco personale a disposizione. Troppe cose non funzionano, troppi problemi si sommano ai quali va presto ricercata una soluzione, ma come? Seguendo quale percorso? È maledettamente difficile fare tutto in breve tempo, ma i cittadini, i pazienti, i calabresi non possono attendere le lungaggini imposte dalla burocrazia. È tempo di decisioni forti e immediate, il resto sono chiacchiere, buone intenzioni e futuro da scrivere.